ciao a tutti buongiorno felice sempre di stare in vostra compagnia allora in questo tutorial ho il piacere di presentarvi il terzo dei prodotti che far parte dell'optimal set questo programma iniziale della fit line guardate lo faccio vedere questo mega scatolone vedete praticamente quasi vuoto l'abbiamo finito ve lo avvicino vi arriva così a casa ve lo apro così lo faccio vedere se ce la faccio ecco qua praticamente è finito arriva a casa io l'ho aperto così per comodità farvi vedere togliete la linguetta qua davanti in modo da prendere la bustina che vi serve ogni giorno la bustina che contiene ben otto porzioni di frutta e verdura cioè in concentrato di vitamine di cui il nostro corpo ha bisogno ogni giorno allora domanda chi di voi ogni giorno riesce ad ingerire la giusta quantità di frutta e verdura di cui il nostro corpo ha bisogno lasciatelo nei commenti sono veramente curiosa chi riesce veramente ogni giorno ad ingerire la giusta quantità di frutta e verdura vi prego lasciate i miei commenti in modo che io forse forse quindi potrò dire forse sono solo io io ad esempio non amo la verdura cotta lo so che fa benissimo ma io non la amo preferisco magari mangiarmi delle grandi insalate o nell'arco dell'anno prediligo di più mangiare la frutta durante il periodo estivo perché c'è molta più scelta quindi questo direi che ottimo per chi o non ama particolari cose o non ha tempo di fare con la giusta alimentazione non ha tempo di mangiare le cose giuste per dare la giusta apporto di vitamine di energia nostro corpo è perfetto contiene otto porzioni di frutta e di verdura invito sempre solo a provare e poi mi saprete dire provare parliamo sempre di prodotti naturali al 100 per cento aiuta tanto la flora batterica quindi aiuta l'intestino a lavorare bene di conseguenza vai ad abbassare a vada abbassare scusate il colesterolo contiene anche la curcuma sappiamo tutti che la curcuma e viene usata in cucina è comunque la curcuma il vinacciolo sanno solo un anti infiammatorio naturale diciamo che tutto ciò che ve l'ho elencato non stiamo parlando di come dico sempre io di chissà di ma che cosa ci sta dicendo prodotti naturali è assolutamente naturali quello che ci dà la natura al nostro servizio lavorato è reso di facile assunzione da parte nostra in modo da poter rigenerare ripulire riportare passatemi il termine alla luce l'energia e la giusta funzionalità del nostro corpo io direi che oggi mi fermo qui avrò modo di darvi a maggiori delucidazioni per quanto riguarda il basics il mio suggerimento è sempre quello di provare 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 nell'info box vi lasciamo i nostri link dei video precedenti se non avete avuto modo di vederli e dove vi parliamo di activize di resto rette e il primissimo video dove vi ho presentato a grandi linee questo optimal set che questo optimal set che è composto da questi tre prodotti anche questo viene assunto questa bustina una volta al giorno prima di pranzo dopo pranzo sempre mescolato l'acqua viene spiegato tutto nel dettaglio di che cosa è composto e di facile controllo io vi invito a provare nell'info box vi lasciamo tutti i nostri riferimenti lasciateci scriveteci scriveteci per qualunque dubbi o curiosità tutto ciò che vi viene in mente saremo felici di potervi rispondere ci trovate anche su facebook e anche su instagram io oggi mi fermo qui avrò modo in avanti di fare dei tutorial di aggiornamento per quanto riguarda i prodotti vi presenterò tante altre cose io intanto vi ringrazio della vostra attenzione spero che questo tutorial vi possa essere d'aiuto vi mando un grande bacio e alla prossima grazie